In Sardegna la curva dei contagi punta decisamente verso il basso, anche se rimane elevata la pressione sulle strutture ospedaliere che hanno numeri superiori alla media nazionale, è quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe. Tra il 18 e il 24 maggio i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono scesi da 1.513 a 1.257, con una diminuzione dei nuovi casi pari al 19,5% rispetto alla precedente rilevazione. Il miglioramento più marcato si registra nel Nurese con un meno 43,3%, ma tutta l'isola mostra numeri in calo. Desta preoccupazione la situazione degli ospedali, il cui tasso di occupazione sta calando molto lentamente con tutti i problemi che ne conseguono. In terapia intensiva i posti letto occupati da pazienti covid sono il 5,4%, la percentuale sale all'11,5% in area medica. Non ci sono grosse novità sul fronte della campagna vaccinale, ormai al palo da settimane, con poche centinaia di somministrazione al giorno. E infatti non scende la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, che ferma all'8,2%. A questo va aggiunto il 3,7% della popolazione temporaneamente protetta in quanto guarita dal covid da meno di 180 giorni.